Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità. Oggi ultimo giorno di potenziamento per le linee della memoria, i 13 collegamenti bus che raggiungono i cimiteri cittadini. Più corse quindi verso i cimiteri Flaminio, Laurentino, Verano, servito anche dalla rete ordinaria, Santa Maria di Galeria, San Vittorino e Ostia Antica. Sabato mattina cerimonia all'altare della patria in occasione della giornata dell'unità nazionale delle forze armate. Dalle 7 previste chiusure al traffico in via dei fori imperiali, via del teatro Marcello, piazza Venezia, via nazionale, via 4 novembre, via Cesare e Battisti, piazza della Racelli e piazza San Marco. Saranno deviate su percorsi alternativi 26 linee di bus. I dettagli su romamobilità.it